Assessore Seccia, ieri in giunta c'è stata l'ultima variazione di bilancio possibile in vista del rendiconto. Ci sono delle buone notizie, partiamo dai buoni spesa natalizi che siete riusciti, che riuscirete a dare a diverse famiglie pescaresi. Sì, abbiamo lavorato per trovare uno stanziamento che avevamo di fatto promesso dall'inizio dell'anno in fase di operazione del bilancio e abbiamo stanziato ben 90 mila euro per dare la possibilità agli uffici di regolamentare poi l'accesso a queste buone spese che ovviamente saranno rivolte alle classi più deboli. Però ci sono anche altri stanziamenti che abbiamo messo, abbiamo saldato le necessità di pescare energia per 760 mila euro raggiungendo la cifra di 9 milioni e 7 perché ovviamente rappresentava la richiesta da parte di pescare energia. Abbiamo stanziato altre disponibilità finanziarie per il rimborso delle spese non dovute agli utenti che hanno effettivamente pagato delle tasse al comune e che non dovevano essere pagate. Abbiamo maggiorato gli stanziamenti per l'acquisto di mezzi per quanto riguarda la protezione civile. Ahimè sono già organizzati però abbiamo dato 200 mila euro la possibilità di acquistare mezzi per poter intervenire incisivamente sulla città e quindi essere ancora più preparati di quelli che non sono stati in questi giorni. Poi abbiamo messo anche altre disponibilità per la dilatica risorse, per l'attività di riscossione, semplicemente un agio sulla discussione che fa a dilatica risorse. Queste sono un po' le macrovoci che sono presenti nel bilancio. Complessivamente diciamo che siamo soddisfatti della gestione di quest'anno e questa sarà l'ultima variazione di bilancio che sarà ratificata prima dell'approvazione del bilancio di previsione 2024 prevista per l'11 dicembre. Grazie a tutti.